Buongiorno ragazzuoli, ma si potrebbe anche subito aggiungere buongiorno un paio di palle e purtroppo ormai da fine gennaio a questa parte di buongiorni il giorno dopo una partita della Juventus di veri buongiorni, ce ne sono veramente veramente pochi, pochi, indubbiamente pochi. Poi certo bisogna sempre guardare il bicchiere mezzo pieno, quantomeno se si vuole arrivare a fine stagione con una sorta di sanità mentale, però ecco diciamo meno si spera 13, ecco di fatto si spera meno 13 e poi per qualche mese andiamo tutti quanti bellamente in vacanza perché ne abbiamo un dannato bisogno dopo sempre la partita contro l'Empoli in poi. Fino a prima tutto sommato le cose andavano anche abbastanza bene, ma andiamo subito piano piano al punto perché al di là di tutto una volta sentite le parole di Pasalic ai microfoni una volta finita la partita io veramente fossi in Massimiliano Allegri mi sentirei umiliato quantomeno per come ho interpretato la frase anche se allo stesso tempo non penso lasci grandissimo spazio alle interpretazioni in quanto si parla a tutti gli effetti di una frase abbastanza chiara, precisa. Perché a Pasalic è stato chiesto un qualcosa di più riguardo lo schema che ha portato al gol del momentaneo 0 a 1 di Cobmeiners e di pronta risposta il giocatore Bergamasco ha detto è uno schema che proviamo spesso però non c'era mai riuscito perché di solito gli avversari ci studiano quindi viene da presupporre che a differenza di tutte le altre partite dove l'Atalanta ha provato di fare uno schema di questo genere ha affrontato squadre che in settimana oltre ad aver preparato la propria partita hanno preparato anche la difesa di alcune situazioni su schemi avversari mentre invece quando si affronta la Juventus del Demiurgo questo viene abbastanza a meno poi non so se la frase sia uscita male a Pasalic sinceramente non ho idea però sinceramente dubito anche dubito anche e io non voglio pensare che è vera questa cosa che non sia stato preparato nulla per controbattere a quelli che sono determinati schemi da parte dell'Atalanta poi però purtroppo c'è l'evidenza del campo che porta a tutti gli effetti ad assecondare quanto meno il punto di vista di Pasalic soprattutto sempre andando a rivedere come la Juventus ha difeso in quel calcio piazzato mettendo tre uomini su quattro dell'Atalanta e lasciando di fatto a Cobmeiners tutto lo spazio e il tempo per potersi preparare al meglio al tiro e se lasci spazio e tempo ad un giocatore come Cobmeiners dai limiti dell'area di rigore c'è una discretissima probabilità che il tutto possa finire non proprio nel migliore dei modi come di fatto questo è accaduto e passando da una dichiarazione all'altra certo quella di Pasalic è una dichiarazione forte si può interpretare come dichiarazione forte o quantomeno io l'ho interpretata così voi magari fatemi sapere qui sotto la vostra con un commento ma anche quelle di Massimiliano Allegri a me in parte se posso essere un pochettino onesto mi hanno fatto anche abbastanza girare i maroni ecco se lo posso dire proprio in tutta tranquillità perché al di là di tutto sicuramente non si parla di una delle Juventus più forti del decennio del secolo o da quando è stata fondata nel 1897 però sei sempre comunque la Juventus e sentire non scordiamoci che il nostro obiettivo è arrivare tra le prime quattro ci mancano dieci punti con il pari di oggi è stata tenuta a distanza l'Atalanta e abbiamo guadagnato un punto sul Bologna per la Champions insomma va bene bisogna anche qui sempre guardare il bicchiere mezzo pieno e si può dire che fortunatamente anche la Roma poi non è riuscita a vincere contro la Fiorentina e quindi la decima rimane a meno dieci e non a meno otto perché altrimenti sarebbero stati potenzialmente anche dignitosissimi cazzi da cagare considerando le partite che mancano alla Juventus da qui alla fine posto che comunque il sesto posto è a più undici e purtroppo vedendo quello che è il ruolino di marcia nelle ultime sette bisogna pur sempre rimanere sul chi va là ma qui ci arriviamo tra poco perché al di là di tutto sì io posso capire capisco assolutamente che appunto soprattutto nei momenti di estrema difficoltà bisogna guardare un pochettino il bicchiere mezzo pieno perché se lo guardi tra le altre cose pure mezzo vuoto non esci veramente più però è quasi un inno alla mediocrità esaltare un pareggio in casa contro l'Atalanta dove tra le altre cose eri pure riuscito a ribaltare il risultato prima tanto per cambiare di rimetterti tutti dietro e speriamo e puntualmente chi vive sperando sappiamo benissimo come muore però ecco fa quantomeno un pochino male al di là di tutto posso dire che fa un pochino male se i punti di riferimento passano da essere non lo so magari l'Inter fino al 27 di gennaio quantomeno poi forse il Milan ad esaltare quasi un pareggio perché così l'Atalanta non ha recuperato nulla ed anzi in tutto questo si è riuscito a prendere un punto al Bologna che ha giocato contro l'Inter certo è da un lato comprensibile nel periodo dove tutto ti va male devi cercare di guardare le cose anche con un sorriso però sicuramente è triste è triste e c'è stata anche una discreta sempre super cazzo riguardo la situazione che sta vivendo insomma perché ad Allegri gli hanno detto avete fatto 6 punti nelle ultime 7 è un pochino preoccupato per quella che è la situazione generale vedendo che insomma fino sempre al 27 gennaio eri tipo a più 200 sul quinto posto mentre invece adesso sei a più 10 no perché è tutto un percepire delle cose i 58 punti sono gli stessi magari avevi perso due partite prima durante la stagione ora magari avevi battuto l'Atalanta e pareggiato a Napoli avresti visto le cose in modo diverso ma sono sempre 58 punti quindi di fatto come per dire se magari avevamo sculato qualche partita qualche mese fa che siamo riusciti a portare a casa di metti che non facevi punti lì e facevi punti contro Atalanta e Napoli avresti comunque avuto il sorriso a 32 denti negli ultimi giorni per carità è sicuramente un punto di vista e tocca prenderne atto mentre invece poi ci sono anche delle cose un pochino più reali perché al di là di tutto qui un qualcosa bisogna farlo magari la prossima partita può venire in soccorso punto di domanda semplicemente in casa contro il Genoa ma poi due settimane di sosta che auguro mi auguro quantomeno possano schiarire quanto più possibile le idee anche perché poi quando tornerai ci saranno due partite ravvicinate tra le altre cose entrambe contro la Lazio la prima a Roma all'Olimpico e la seconda qualche giorno dopo in casa la semifinale d'andata di Coppa Italia però ragazzi è evidente che arrivare così alla fine sicuramente è difficile e da un certo punto di vista uno può dire sì ma sarà difficile far peggio io lo voglio semplicemente sperare semplicemente lo voglio sperare perché obiettivamente nelle ultime sette partite sempre da quel Juventus Empoli di riferimento che di fatto è andata totalmente a stravolgere la stagione della Juventus abbiamo fatto come da domanda precedente sei punti e su 20 squadre 19 rimanenti solamente Salernitana, Frosinone, Sassuolo e Lecce hanno fatto meno punti della Juventus su 19 squadre rimanenti solamente in quattro hanno fatto meno punti della Juventus e qualora la Lazio stasera non dovesse vincere contro l'Udinese in casa sarebbero cinque perché la Lazio attualmente nelle ultime sei ha fatto quattro punti ma gli manca la partita di stasera e tra le altre cose fortuna che la Lazio ha fatto così male perché prima sempre di quel famoso Juventus Empoli la Lazio era quarta e adesso è scesa abbastanza in classifica se avesse tenuto il ruolino di marcia di tutte quelle squadre che hanno recuperato tanti punti alla Juventus non so di che cosa staremo parlando semplicemente di una squadra in più che si sarebbe andata ad aggiungere alle squadre da monitorare particolarmente però al di là di tutto qui ragazzi non so sinceramente quale tipo di spiraglio realmente positivo ci sia speravo dopo quei passi falsi sempre da quella famosa partita non mi va neanche di ripeterlo per l'ennesima volta mi auguravo che la partita col Frosinone servisse a un qualcosa per quantomeno riprendere un pochettino il ritmo a livello di punti poi per carità le due partite successive sono state una al Maradona e una contro l'Atalanta che al di là di tutto non sono mai due partite semplicissime la prima contro una squadra che ti batte da 5 anni consecutivi al Maradona e quell'altra da una squadra che non riesce a battere in casa dal 2018 quindi indubbiamente in questo determinato periodo storico due match non particolarmente semplici per la Juventus siamo tutti quanti completamente d'accordo però mi auguravo servisse ad un qualcosa mentre invece purtroppo sì serve a livello di classifica perché fortunatamente si parla di due punti in più che la Juventus ha ma per il resto purtroppo poca roba e se da un lato come detto prima uno giustamente può pensare beh ma comunque fare peggio di così sarà difficile mi auguro il grande presupposto è che mi auguro allo stesso tempo però il calendario non sarà così tanto benevolo il calendario era benevolo nella prima parte del girone di ritorno che si è andato a concludere con Juventus Frosinone di fatto certo c'è stata la parentesi di San Siro contro l'Inter ma come abbiamo visto purtroppo è giocato anche contro il Verona contro l'Empoli contro l'Udinese contro il Lecce contro il Sassuolo e da qui alla fine tutte quasi tutte almeno diciamo a modo loro saranno partite molto ostiche per la Juventus anche quelle contro squadre non particolarmente di livello saranno partite che indubbiamente non saranno scontate per questa Juventus poi certo è vero sicuramente se andiamo a vedere le partite contro il Napoli e la partita contro l'Atalanta probabilmente la Juventus si sarebbe meritata di uscire con più del singolo punto raccimolato in questi 180 minuti però purtroppo questo è da qui alla fine che cosa si fa? perché magari a livello di gioco di per sé sappiamo bene che la Juventus di Massimiliano Allegri non è mai stata una squadra che si è andata particolarmente a distinguere per la qualità di gioco proposta va bene però prima almeno c'erano degli altri fattori la cattiveria agonistica la voglia di andarsi a prendere un risultato sempre e comunque fino all'ultimo secondo a disposizione un atteggiamento che magari alle volte ti portava portava tutti quanti a fare un qualcosa in più andare probabilmente no? oltre i propri limiti alle proprie possibilità e questo l'abbiamo visto in un girone d'andata dove c'era una media punti spaventosa qualora la Juventus fosse miracolosamente riuscita a riproporre lo stesso rendimento a livello di risultati pure nel girone di ritorno se però tutto quello è venuto meno adesso che si fa? è quello più che altro quello che mi chiedo io poi certo magari ribadisco nelle ultime partite nelle ultime due per quello che hai effettivamente costruito cercato di costruire forse un qualcosino in più te lo saresti anche meritato va bene qualcun altro potrebbe dire sì però compensa quando magari prima riuscivi a portarti a casa dei risultati che tutto sommato non ti saresti neanche poi così tanto meritato di portare a casa questo fa comunque pur sempre parte del gioco e ci mancherebbe altro però qui la situazione non è facile non è facile in più altra piccola statistica indubbiamente triste se fino a qualche giornata fa si facevano i paragoni di punteggio con la passata stagione adesso purtroppo è venuto meno anche quello nella passata stagione dopo questo turno di campionato la Juventus 2022-2023 aveva ottenuto un punto in più rispetto a questa Juventus a livello di gol più o meno siamo lì sempre distanza di un gol di differenza tra fatti e subiti va bene però di fatto questo sei e basterà speriamo possa bastare sinceramente speriamo perché io tutta questa grandissima positività non ce l'ho più che altro approcci anche sempre la partita a livello personale da tifoso dove veramente non sai mai che cosa aspettarti da questa squadra ti aspetti tanto di negativo e poco di positivo purtroppo e speriamo bene ragazzi io non so non so cosa dirvi molti continuano ad essere estremamente tranquilli per la Champions League per l'amor di Dio continuano ad avere più 10 sulla quinta e qualora dovessero essere 5 le squadre ad approdare in Champions League più 11 sulla sesta però per me purtroppo il discorso è sempre quello lì vai a vedere quant'eri dalla quinta e dalla sesta il 27 gennaio e a quanto sei oggi l'11 di marzo il campionato però finisce tra due mesi e mezzo un mese e mezzo fa eri lì tra due mesi e mezzo punto di domanda perché è sempre giusto anche andarsi a vedere quello che è il calendario della Juventus da qui all'ultima in casa contro il Monza sono proprio tutte quante delle grandissime passeggiate di salute posto che esistano in questo momento delle passeggiate di salute per la Juventus qui magari ci si riappella al discorso precedente far peggio di così fai fatica perché questo è letteralmente un percorso da zona retrocessione quello che sta facendo la Juventus nelle ultime sette solamente in quattro hanno fatto meno punti di te quindi è letteralmente una media punti da retrocessione quella che la Juventus sta avendo nell'ultimo mese e mezzo però sembra che tutto quanto si sia totalmente sfaldato e che di certezze non ce ne siano più che è la cosa peggiore di tutte voi magari ragazzuoli fatemi sapere qui sotto la vostra con un commento io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine forza Juve grazie a tutti